Buongiorno a tutti, sono Matteo Paganini, benvenuti a questo appuntamento con l'analisi dal vivo dei mercati dedicata all'apertura europea. Abbiamo avuto mercati che ieri sono stati abbastanza volatili, i livelli di liquidità, abbiamo avuto modo di parlarne proprio durante la giornata di ieri, non sono elevatissimi, questo è tipico di queste giornate estive, siamo nelle due settimane centrali d'agosto e tendenzialmente il mercato si comporta in questa maniera, proprio per la mancanza di operatori, il che fa diminuire gli scambi, fa diminuire le controparti che vanno a quotare i prezzi, anche se queste risultano sempre attive, possono esserci dei momenti in cui gli spread possono anche risultare più elevati rispetto al solito, perché fa parte proprio dei meccanismi di quotazione e di funzionamento del mercato e questo può portare a movimenti di alta volatilità, una volatilità che può andare a contenersi proprio per la mancanza di scambi o ad amplificarsi proprio per il fatto che serve meno denaro per far muovere il mercato rispetto a quanto ne serve in maniera canonica quando i livelli di liquidità scambiati e disponibili sui mercati sono a livelli standard, a livelli normali. Ieri abbiamo avuto un mercato tendenzialmente dollaro centrico, abbiamo avuto modo di parlarne ieri mattina, i dollari sono stati acquistati sia contro l'euro che contro la sterlina, i movimenti sono partiti dalla sterlina inglese ieri mattina che alle 10.30 ha visto la pubblicazione dei dati sull'inflazione, un dato a 1,6% contro un 1,8% atteso e un 1,9% precedente per quanto riguarda il dato puro, 1,8% contro un 1,9% atteso e un 2% precedente per quanto riguarda il dato core, ossia depurato dal paniere alimentare e dal paniere energetico. Dato dunque inferiore rispetto alle attese e rispetto ai dati precedenti, la sterlina che aveva già rotto in mattinata la congestione sulla quale avevamo ragionato e proprio durante il nostro webinar eravamo a circa metà strada dal punto di target dopo la rottura a ribasso di questa zona congestiva che poteva essere lavorata, l'abbiamo visto con degli ordini OCO a rialzo o a ribasso, dopo la pubblicazione dell'inflazione è riuscita a scendere in area 66,50, 66,40 con un mercato che ha tentato dei piccoli rimbalzi che non sono riusciti, lo vedete, a tornare sopra i punti di minimo precedenti, contenuti anche dalla media mobile a 21 periodi e questo ha portato a una discesa ulteriore della sterlina. Il mercato ora si trova sotto la media mobile a 21 periodi oraria, siamo di fronte alla possibilità di assistere a questi rimbalzi di ripartenza alla ricerca delle resistenze, le resistenze si estendono secondo il nostro parere in tutta l'area che parte da 66,20 e si estende fino a 66,55, il che ci va a far considerare la possibilità di entrare in vendita in queste zone. Se il mercato dovesse superare l'area di 66,40 l'idea è quella di andare a completare delle piccole posizioni che possono essere aperte in linea tendenziale nel momento in cui il mercato dovesse iniziare a vedere l'area di 66,20. Scusate un attimo ragazzi che mi chiamano di là un secondo solo. Eccomi qua, scusate l'attesa. Allora, come detto, area di vendita per il cable, se il mercato dovesse salire sopra quest'area e superare l'area di 66,65 con uno stocastico a 4 ore che dovesse rimanere girato a rialzo fuori dalla zona di per venduto, questo potrebbe suggerire dei cambi di direzionalità e quindi delle ricoperture delle posizioni con eventuali situazioni di stop e reverse per area 67,67 e 30. Andiamo veloci, andiamo sull'euro con il mercato che si trova in questa congestione rotta durante la notte con dei tentativi di ripartenza verso il basso, le zone di resistenza sono da ricercare in area 33 e 25, tra 33 e 10 e 33 e 25, questo potrebbe fornire delle buone possibilità di ripartenza verso il basso con dei target che potrebbero in qualche modo essere rappresentati dai punti di minimo. Se il mercato dovesse in qualche modo iniziare a scendere subito direttamente verso il basso, se abbiamo un superamento di 32,85 che passa sotto l'area di 33 figura, potremmo avere delle accelerazioni che se andate a prendere i punti precedenti iniziano a mostrare dei target in area 32,50, 32 e 35, ieri si è comportato molto bene l'euro, non è andato a trovare i punti di resistenza che aspettavamo ma ha rotto 33,40 a ribasso con uno stocastico orario che è rimasto lontano dalla zona di ipervenduto e che quindi ci ha permesso degli ingressi corti. dollaro yen, ieri 102,50 l'abbiamo visto proprio durante il nostro webinar, è stato in qualche modo sfiorato dai prezzi che ha un livello di supporto che ha tenuto molto bene, 102,75, 102,90 livelli raggiunti a livello di target con un mercato che durante la notte è proprio sugli acquisti di dollaro che si sono ripetuti soprattutto dopo l'intervento di Stevens della banca centrale australiana che è salito sopra a 103,00, è arrivato a 103,25, adesso siamo in attesa di eventuali pullback a ribasso sui punti di supporto che passano intorno a 102,90, tra 102,90 e 103 per ripartenze che se dovessero continuare non ci fanno permettere degli ingressi a rialzo proprio perché non abbiamo delle grandi evidenze di potenzialità di rottura, se il mercato rompe comunque a rialzo, aspettiamo senza operare la formazione di una divergenza ribassista sul fronte orario, proprio tra prezzi e stocastico. L'australiano è stato molto combattuto durante la giornata di ieri, abbiamo visto con un grafico a 4 ore, abbiamo visto con un grafico a 4 ore la potenzialità di discesa dopo la formazione di una divergenza ribassista, il mercato è arrivato sui minimi precedenti mentre sull'orario il mercato poteva in qualche modo provare a rimbalzare sopra l'area di 93,10, cosa che non è successo, 92,95 è stato superato a ribasso durante le prime ore della notte con un mercato che ha provato a ripartire per poi scendere nuovamente su questa volatilità portata da Stevens che nella sua testimonianza semiannuale ha in qualche modo ribadito quello che hanno detto durante la conferenza stampa della Banca Centrale Australiana settimana scorsa e parlando di interventi ha detto che finora non sono stati considerati necessari e che si potrebbe anche pensare di intervenire qualora fosse necessario e non si avviserà al mercato prima di prendere queste decisioni. Tecnicamente parlando l'idea è quella di aspettare qui su un orario pullback delle resistenze che passano qui sopra dove c'è la media e sui punti precedenti, già i prezzi di adesso possono sembrare buoni per entrare anche se non ci sono dei buoni risk reward a meno che di stopparsi subito sopra 93,20 e tentare delle liquidazioni di posizioni in area 92,60 ma non è una situazione tecnica bellissima se il mercato non va a caricarsi almeno fino all'area di 93. Poi abbiamo il DAX che lo continuiamo a seguire su un 4 ore dove ieri si è avvicinato sulle resistenze media mobile a 100, prezzi sotto l'area di 365 che rimane il punto di eventuale stop e reverse della posizione, potenziale posizione corta da aprire su questi livelli dopo una figura di potenziale continuazione data da questa potenziale bandiera che vedete qui appunto su un grafico a 4 ore con un buon risk reward in quanto se il mercato dovesse rompere 365 potrebbe tentare delle estensioni verso l'area di 420,430, se il mercato dovesse tenere 220 potrebbe essere un primo livello di target sul quale liquidare parte della posizione e mantenerne una parte per eventuali rotture verso i minimi precedenti. Questo per quanto riguarda il DAX, lo standard Rampur rimane sostenuto sopra la media 21, vediamo nel pomeriggio se ci dà degli aumenti di volatilità come ieri dove dopo la piccola bandierina che è stata fatta sopra punti statici precedenti, vedete qui questi massimi che non sono stati passati a ribasso e dopo la rottura dei punti di massimo è andato ad estendere, ora siamo di fronte a una situazione simile con un mercato che rimane sopra punti precedenti, di fronte a una figura di potenziale bandiera, fino a quando rimaniamo sopra 975 c'è la possibilità di valutare eventuali salite. Il petrolio molto bello, ieri lo aspettavamo intorno a 95,20 invece è arrivato a 94,30 poi è sceso nuovamente, siamo ancora in fase di consolidamento, è possibile seguire tutti i pullback a rialzo per valutare eventuali vendite, oggi dopo aver espletato, scusate la mancanza di ieri, ma dopo aver espletato tutte le cose burocratiche che seguono un rientro dalle ferie, sarò presente sul forum tutto il giorno e potremo vivere attivamente il mercato e quindi seguire anche il petrolio. Ok, allora direi che ci siamo, finiamo un attimo con l'oro che ieri ha avuto un bel pullback dei punti di resistenza, l'abbiamo visto con i target raggiunti, ora siamo in una situazione di congestione che può essere lavorata con degli ordini o a rialzo o a ribasso anche se il risk reward non è buono e per quanto riguarda ribassi vale la pena eventualmente aspettare il superamento di questi punti di minimo e direi che come panoramica ci siamo, intanto l'euro sta approfondendo, attenzione alle 10.30, se rimanete collegati a questo link, adesso io vado a stoppare un attimo la registrazione e ci ricollegheremo alle 10.30, seguiremo la pubblicazione delle minute con un cable che tendenzialmente di fronte a un 9 a 0 ancora che a favore di un mantenimento di tassi a livelli attuali potrebbe soffrirne. Ok, io mi fermo qui, per oggi non riusciamo per questioni di organizzazione e di presenza su canali di stampa che c'è stata richiesta ad effettuare la sezione di domande e risposte, però vi ripeto, poco male, tenete tutte le domande che eventualmente avevate preparato per il forum, saremo disponibili a partire dalle 11, quindi dopo il Trade News, subito dopo il Trade News, per tutti i trader e sul forum possono approfittare anche i trader che non lavorano in reale o che lavorano con altri broker e non con FXEM. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo alle 10.30, adesso lascio collegato il... Grazie. 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 Grazie.